Eccoci alle 22.42 in diretta per questa nuova puntata di Sì o No. E' tornato il Presidente del Consiglio Matteo Renzi che abbiamo avuto un mese fa con il Professor Zagrebelsky. Glielo dico subito, la vorremmo rivedere un'ultima volta con un esponente di 5 Stelle, è plausibile? Quando Beppe Grillo è disponibile scelga lei la data. Solo Beppe Grillo? Mi pare che il capo di 5 Stelle sia Beppe Grillo. Sì, l'ho sentito dire anch'io effettivamente. Quindi va bene. Va bene, ma dall'altra parte questa... Va bene anche Casaleggio Junior se volete. Casaleggio Junior? Va benissimo. Anche Casaleggio Junior. I due proprietari del simbolo. Per ora c'è una persona che è stata vista con lei in una... Avete avuto la sfortuna di fare una foto insieme, l'abbiamo rivista tante volte in questi giorni di preparazione di questo match televisivo e politico. Ciriaco De Mita, buonasera. Buonasera. A lungo a sua volta presidente del Consiglio. L'unico prima di lei e in mezzo solo Berlusconi a essere stato contemporaneamente presidente del Consiglio e segretario del partito. Il famoso... No, ce n'è un altro. Chi è? Fanfani. Giusto presidente? Fanfani è stato presidente. Fanfani era insieme presidente del Consiglio e segretario del partito. Renzi è segretario del partito e presidente del Consiglio. Io ero segretario del partito e volendo decidere di farmi candidare, siccome si faceva il congresso, rinviammi il congresso di otto mesi e malmen ingolse. Il presidente del Consiglio sta dicendo che l'hanno fatto fuori da tutti e due i posti. Questa è la sintesi del pensiero del Consiglio. Adombrava un rischio anche per chi è attualmente in quella posizione. Lo voleva dire in questi giorni... Presidente, entriamo... Presidente Junior, diciamo. Qui a tutti e due dovrei chiamare così. Renzi, perché è un bene per l'Italia se vince e si? Per tanti motivi, il primo dei quali è perché si smette di dare la fiducia sia da parte della Camera che da parte del Senato. Ed è una novità che il Costituente stesso cercò di inserire e che poi molti altri tentativi nel corso dei decenni hanno tentato di raggiungere come obiettivo e non ce l'hanno fatta. E poi si rende più semplice questo Paese, si rende più agile il dibattito democratico. In altre parole, si consente alle istituzioni di permetterci di guardare al futuro. È una riforma che non guarda soltanto ai decenni di tentativi del passato. Vuole mettere l'Italia nelle condizioni di essere all'avanguardia nella modernità. Quindi vuol dire essere più capace di vincere la sfida istituzionale della globalizzazione. Perché è un bene per l'Italia se vince e no, Demita? Bene perché è una riforma frettolosa, poco motivata. Ci sono appigli che storicamente si annullano e probabilmente nell'estetica si conservano. Perché è scritta male. È scritta in una maniera, come dire, incomprensibile. Se io fossi giurista avrei grossa difficoltà a leggere la riforma così come è stata fatta. L'opinione non coincide, poi scritta con periodi lunghissimi. Di solito le norme costituzionali, che non sono provvedimenti, sono le ragioni del provvedimento, sono brevi. E Napoleone, che si indendeva di leggi, diceva che le norme debbono essere brevi ed oscure. Ora, fare un periodo lungo tre colonne è una cosa che non si è mai vista. Non solo, lo dico in maniera discorsiva, non c'è... Voler dar vita ad una forma di bipolarismo, io avrei tolto il Senato. Perché un Senato così non si capisce che senso ha? Ci arriviamo. Si è capito che non è soltanto un'opposizione di facciata al sì, ma c'è una forte contrarietà. E la prima cosa di cui parleremo sarà proprio il Senato. Anzi, prima però posso dire... Sì. È abbastanza suggestibile. Ringrazio molto il Presidente De Mita per l'occasione di un confronto nel merito. Riforma frettolosa, dissento nel modo più radicale. È una riforma che è stata attesa nel dibattito politico, e pochi lo possono sapere come De Mita, da decenni. Non solo i decenni del post-Assemblea Costituente, ma anche i decenni dei tentativi del Parlamento di fare riforme, tre commissioni bicamerali. Tra l'altro l'unico che c'è stato in tutte e tre, quella dell'83, quella del 92 e quella del 97, si chiama Ciriaco De Mita. Tre tentativi falliti. Poi quando parte il percorso di questa riforma, non soltanto dura due anni e quattro giorni, ma è preceduto da un confronto con le forze principali dei professori, del mondo accademico. Il governo invia una bozza di suggestioni e di proposte ai professori e chiede una sorta di contributo. Il governo poi, dopo questa campagna di ascolto, porta il testo in aula. E ci sono sei letture, tre alla Camera e tre al Senato, 85 milioni di emendamenti, un arco di tempo e di discussioni superiori a quello persino dell'Assemblea Costituente. Definirla frettolosa è quantomeno suggestivo, perché tutto si può dire tranne che dopo 35 anni di ritardi e 70 anni di attesa, la fine del bicameralismo paritario sia frettolosa. Poi nel merito mi piacerebbe discutere di come è scritta, mi piacerebbe discutere soprattutto del fatto che se dopo 35 anni di attesa si continua a dire che bisogna rimandare e rinviare e aspettare che arrivi qualcuno improvvisamente con la bacchetta magica a cambiare le cose? Questo Paese fa la fine degli ultimi 35 anni, perde occasione. Ha fatto bene aggiungerlo, questo non è il merito. Il merito è quello che diceva lei. Non è frettolosa perché è passata attraverso un vaglio preliminare, ha ricordato Renzi addirittura nel rapporto tra il governo e professori, esperti, docenti, è passata attraverso uno scrutinio triplo da una parte e dall'altra alla Camera e allo stesso Senato, che è poi quella delle due Camere, quella che viene più sacrificata, come lei stessa ricordava. Perché allora è frettolosa? E' frettolosa perché il modo come scritta, l'ordinamento che si dà non ha una sua razionalità. Però io debbo una risposta a Renzi, non è una risposta, come dire, non cordiale. Io da parlamentare, ma anche da prima di essere parlamentare, ho avuto sempre grande curiosità per le istituzioni. Quando io ho cominciato a fare politica, un po' di anni prima che tu nascessi, io sostenevo che la politica era la scienza dell'organizzazione dello Stato. Ho seguito i lavori della Costituente, quando aveva memoria li ricordavo tutti, adesso li ricordo quasi tutti, ho ricordato tutte le vicende. La cosa che direi non condivido della tua lettura della storia politica del Paese è che ci sia stata questa specie di ritardo infinito e finalmente c'è l'avvento della luce. Mi permetto di dire che non è così, perché noi abbiamo avuto la Costituente e la Costituente credo che sia irripetibile quella condizione per chi ha avuto la fortuna di aver accumulato il massimo del pensiero giuridico e allora i giuristi sapevano di diritto, adesso abbiamo i politologi, quindi era notevole differenza, avevano preparato questo lavoro. E i primi anni dell'epoca degasperiana, dell'epoca centrista, è stata un'esperienza di grandissima efficienza. Sul piano delle riforme fu fatta la riforma agraria e fu fatta in due mesi con il regolamento del bicameralismo perfetto. Durò due mesi perché i governi avevano possibilità di presentare proposte e vederle approvate rapidamente. Io vado storicamente perché la maggioranza non era la somma di varie posizioni, la maggioranza era una coalizione. Io vorrei che si riflettesse sull'istituzione della coalizione, norma giuridica non scritta, ma che in realtà è un patto tra i partiti che si accordano su un problema e lo realizzano. E di fatti la prima coalizione centrista, questo è lontano dalla memoria, metteva insieme i socialisti che erano marxisti, i liberali che erano massoni e i repubblicani che erano certamente non religiosi. Con qualche difficoltà nel mondo cattolico, ma sul piano politico no. Scusi, perché se no non ci arriviamo. Perché però non ci siete riusciti? E lui sì, come lei ha detto, non è che è arrivata la luce. No, no, siccome ha detto che abbiamo dopo tanti anni... No, no, volevo dire che in quel periodo sono state fatte riforme notevoli. Prima, seconda parte della maggioranza tradizionale. Quando negli anni... nel 1960, 1992, la prima commissione risolutiva, perché quella Bozzi aveva compiti di ricerca, e io all'epoca provosi a Berlinguer di andare in commissione, di congordare l'elaborazione di una proposta perché il giorno in cui avessimo presentato una proposta comune di revisione costituzionale, altro che attività di governo. Io vado alla bicamerale. Il 92. Il 92. E discutiamo in una condizione che non augura a nessuno. Il prepotere dell'intervento della magistratura arrivò al punto che quando dovevamo discutere del ruolo del pubblico ministero arrivò un telegramma dalla procura di Milano. Ma non fu questo l'imbedimento che impedì, cioè che non consentì l'approvazione della riforma. In quell'anno però ci fu pure l'invelice referendum sull'eliminazione delle preferenze. E allora ci trovammo col rischio che siccome sarebbe passata la modifica elettorale al Senato, se non si modificava anche la legge elettorale alla Camera sarebbe stato difficile andare avanti. E mi lasci concludere se non lo si spiega. Però vuol dire che un referendum aveva rovinato la riforma. No, no. Noi troviamo l'intesa, democristiani e comunisti, di applicare una modifica alla legge elettorale della Camera in analogia a quella del Senato. Come ragionavamo? Siccome il Senato vince una coalizione perché non vincevano i partiti, i partiti che si erano coalizzati al Senato si sarebbero potuti coalizzare pure alla Camera. Fatto questo accordo, siccome Occhetto cambiò opinione, pare che le cambi spesso, non è che non fu approvata. Si sciolse il Parlamento. Beh, è molto interessante l'analisi storica del Presidente De Mita. Il Presidente De Mita parla della riforma agraria, legge del 1950 e sicuramente ne sa più di tutti noi. Tre leggi diverse, non una sola. La legge sulla Sila, la legge Stralcio, la legge sulla Sicilia. Quindi sono non una, ma tre leggi con tutti i problemi che suscitò quel tipo di norma. Ma io certo non immagino adesso di mettermi qui a riscrivere insieme la storia. Io credo che il nostro compito sia quello di scrivere il futuro. E vorrei entrare nel merito. Nessuno di noi dice che qui adesso Fiat Lux sia fatta la luce. Ma di che parliamo, Presidente? Il punto vero è che voi avete detto più volte che la riforma istituzionale era l'elemento chiave per cambiare il Paese. E lo ha detto il segretario della DC che dall'82 all'89 ha governato il partito di maggioranza relativa. E allora fare il segretario del partito di maggioranza relativa voleva dire, avrebbe detto Renzo Arbore in quel film o padrone d'Italia. Bene, ci rieco De Mita per intendersi. Quel tipo di messaggio, il qui presente, quel tipo di messaggio facciamo le riforme si è scontrato con tre buchi nell'acqua. 83-85 la Commissione Bozzi, 92-93 De Mita Iotti, 97-98 D'Alema. A fronte di questo triplice fallimento e in tutti e tre i casi avevate messo tra le ipotesi quello di differenziare il bicameralismo e di portare in alcuni casi al voto di sola fiducia da parte delle Camera, in altri a un modello diverso, ora non vogliamo entrare. Ma tutte e tre le volte voi avete detto bisogna cambiare il bicameralismo. Ora che finalmente, dopo 35 anni in cui voi avete fallito, qualcuno, non io, il Parlamento lo fa. Ma per quale motivo, dopo aver bloccato gli ultimi 35 anni, volete bloccare anche i prossimi? Questo è il punto. Io rispetto la storia del Paese, io minchino di fronte alla storia di Alcide De Gasperi e minchino rispetto a questi 70 anni di storia repubblicana. Poi posso essere interessato a discutere se il decennio che va dall'80 al 90 sia stato alla fine un bene o un male. Perché l'economia è andata bene, ma abbiamo visto raddoppiare il debito pubblico e abbiamo visto aumentare la pressione fiscale. Possiamo discutere di storia. Quello che è fondamentale è che questa riforma serve al futuro del Paese. Perché finalmente rende l'Italia un Paese più semplice in linea con tutti gli altri. E qui faccio la domanda io al Presidente De Mita. C'è un altro Paese con il sistema di fiducia doppio, bicamerale? Io non conosco nessun Paese che dia la fiducia tanto da parte della Camera quanto da parte del Senato o Camera Alta e Camera Bassa al Governo. Soltanto noi e questo non va bene, va cambiato. A questo ci arriveremo parlando delle funzioni della Camera e del Senato. Però Renzi torna a questo. Voi avete fatto tre buchi nell'acqua e lei era in tutte e tre le circostanze. Ma non è che è colpa sua. Non di mangiare i secondi. Tanto da recuperare i minuti, Presidente. Io non è che faccio riferimento alla storia per evitare l'attenzione al presente. So però che il presente si legge meglio se si conosce la storia e si ipotizza il futuro il rischio per i rivoluzionari è pensare solo al presente. Perché rischiano di essere battuti e dalla reazione e dalla conservazione. Quindi facciamo una riflessione senza, come dire, perché io come i fiorentini sono attento alle sfumature. E le sfumature lasciamole e facciamo un discorso molto sereno. 1980-1990 Io non do la lettura catastrofica che fai tu. Né il riferimento alla crescita del debito pubblico potrei dire io tra i governi sono stato quello che non l'ha fatto crescere. Ma non è un merito. È stata una politica. So però che il Paese fino agli anni Ottanti è cresciuto. Dagli anni Ottanti in voi non è cresciuto. Negli ultimi tre anni non mi pare sia cresciuto molto. Ma quando dico questo io vorrei che noi non ci attribuissimi la funzione di chi fa il miracolo ma di chi legge la storia e si adopera per governarla. La polemica non la faccio su queste cose perché la polemica su queste cose come dire ci porterebbe a un po' di rissa e non ad un dialogo sereno. Io metto insieme le opinioni. la riforma la riforma per come è fatta non può essere legittimata che siccome prima non sono state fatte si fa comunque. La riforma fatta io sarei anche stato favorevole all'eliminazione del Senato ma fare un Senato di cento persone scelte tra i consiglieri regionali beh per uno per la sensibilità estetica come te scegliere nel panorama politico delle classi dirigenti non molto accreditati a non credo quella migliore non mi pare una scelta geniale. Se io avessi avuto la possibilità di dare io avrei fatto il Senato dei notabili per usare un'espressione del Gasperiano cioè delle persone che rappresentano la comunità cresciuta che non hanno funzione di giurisdizione ma hanno funzione di consiglio è il patrimonio culturale che si esprime in una comunità e dà consigli secondo lo dico mettere i cinque senatori a vita e gli ex presidenti del Consiglio insieme ai consiglieri regionali credo che sia stata una svista imperdonabile perché non vedo quanta possibilità di discorsi fecondi ci possa essere tra il presidente napolitano e i consiglieri regionali che ci vanno io faccio una previsione i consiglieri regionali che andranno in Parlamento sono quelli che non vanno gli assessori per cui nella gerarchia della qualità dei consiglieri regionali è la terza scelta non mi pare che funzioni secondo è il modo come avete previsto le funzioni in maniera che ci si capisca perché alla fine poi potresti essere sorpreso io sulla riforma discuto per farla meglio si potrebbe far meglio rifiutarsi di discutere questo non credo che sia un argomento valido poi si può trovare anche lo stato di necessità allora si potrebbe dire siccome sono state sempre provate e non siamo mai riuscite stavolta andiamo avanti e l'aggiustiamo dopo questo mi parrebbe un discorso molto più intrigante e sollecitatore di riflessione da parte mia nessuno può pensare di avere la verità in tasca però vado nel punto per punto sulle repliche primo punto mi piacerebbe discutere degli anni 80 non per marcare una differenza meno che mai per fare una rissa ma semplicemente per stabilire un dato di fatto e cioè siccome noi vogliamo leggere il passato per orientare il presente e costruire il futuro noi dobbiamo avere il coraggio di dire che in quel decennio lì e voi avevate delle responsabilità siamo passati dal 57% del debito sul PIL al 124% del debito sul PIL cosa vuol dire che se il nostro paese oggi deve pagare una montagna di interessi ed essere costretto a delle regole stringenti dal fiscal compact deriva dal fatto che negli anni dagli 80 ai 90 qualcuno ha fatto la cicala costringendo noi generazione dei più giovani a fare la formica primo punto perché poi volendo ci rientriamo andiamo sulla riforma io non credo al giudizio che dà il presidente De Mita sulla qualità estetica di questa riforma intanto perché è esattamente la proposta di cui si discuteva da anni quello di fare della classe politica dei territori regioni e sindaci gli elementi di rappresentanza di una camera delle autonomie è vero che la democrazia cristiana sognava incostituente una grande assemblea dei notabili ma è altrettanto vero che il PC voleva un'assemblea delle autonomie una camera delle autonomie anch'io sarei stato d'accordo nel dire eliminiamo tu curi il senato ma se non ce l'avete fatta in 35 anni e noi riusciamo ad avere questo punto che per me è un punto avanzato rispetto ad oggi è meglio il senato di autonomie territoriali che non dà la fiducia e che non fa cito Fiorentino Sullo l'inutile doppione della camera è meglio un senato che rappresenti i territori dove sì il sindaco il presidente della regione discute dei problemi del proprio territorio dell'Europa che è esattamente la proposta che voi avevate avanzato nel 92 è esattamente questa che sta agli atti nelle proposte dell'ADC dell'85 io ho ritrovato qui la copia del popolo giornale della democrazia cristiana venerdì 18 gennaio 85 santa liberata il popolo aveva questa caratteristica di metterci il nome del santo e Demita fa la relazione in direzione e spiega nel dettaglio qual è la proposta per cercare un grande accordo poi si può discutere se avesse torto gli altri che avessero torto gli altri a non accogliere questa proposta d'accordo ma che aveva esattamente queste caratteristiche allora perché stupirvi se ci sono adesso i sindaci e i rappresentanti delle autonomie territoriali parliamo chiaramente ai cittadini c'è la camera la camera dei deputati che solo lei dà la fiducia solo lei ha il potere legislativo sulle principali materie e poi c'è un senato che è un senato diverso vogliamo dire meno importante diciamolo meno importante tant'è vero che la seconda carica dello Stato smette di essere il presidente del senato e diventa il presidente della camera un senato meno importante che è un luogo nel quale le autonomie territoriali rappresentano i propri convincimenti è esattamente quello che avete detto voi per decenni ma per quale motivo adesso non va bene e vengo all'ultimo punto ma ci tengo moltissimo a parte che non è vero che ci sono senatori a vita sono senatori per un periodo ma ora è secondario questa è una piccola imprecisione secondaria Napolitano e Mattarella lo saranno il presidente De Mita si riferiva ai cinque che vengono nominati due ce ne sono sicuramente i cinque gli ex presidenti della repubblica rimangono in quanto tali ma i presidenti siamo d'accordo che è una quisquiglia non è una quisquiglia è una cosa molto importante ma non è un argomento fondamentale vengo al punto estetico io contesto a De Mita l'aspetto legato alla forma della scrittura di questa costituzione che porta molti a dire a un pasticcio non è vero non è vero perché tutte le carte costituzionali hanno degli argomenti in cui entrano con precisione la regola che decide che presiede a quale legge deve andare nella Camera Alta e nella Camera Bassa nella legge fondamentale tedesca la legge la Costituzione della Germania impiega dai sei agli otto articoli per descrivere con minuzia di particolari come quando e perché una legge deve andare alla Camera Alta e alla Camera Bassa per quale motivo dobbiamo continuare con questa rappresentazione mi permetta mi permetti il Presidente superficiale per cui soltanto da noi c'è un meccanismo di scrittura delle leggi e se vogliamo parlare del passato allora bisogna avere a un grande esperto di storia come De Mita il coraggio di dire ma quando fu approvata la Costituente che era la Costituente con la Costituzione con tutte quelle personalità incostituente straordinarie cosa disse Salvemini a proposito del modo con il quale era stata scritta quella riforma è talmente brutta scrive Salvemini che l'unico articolo che mi piace è il 138 cioè quello che prevede la revisione allora Presidente De Mita parliamoci chiaro qui c'è un meccanismo in cui il Paese non funziona così con Camera e Senato che fanno le stesse cose non mi sei riuscito a dire qual è l'altro Paese che ha lo stesso sistema nostro perché non esiste perché non c'è allora per quale motivo entriamo con discussioni speciose non sulla sostanza perché la Camera delle Autonomie è la vostra proposta da 30 anni la differenza è che voi non l'avete fatta ne riparliamo ricominciando da De Mita subito dalla pubblicità allora abbiamo lasciato Renzi il Presidente del Consiglio che argomentava sul fatto che il Senato è stato modificato questa volta e non tutte le altre volte è stato modificato secondo linee che sono molto vicine a quelle che erano state enunciate negli anni 80 dalla stessa democrazia cristiana e di De Mita e non solo ha ricordato ancora una volta che questo è fino ad oggi l'unico Parlamento con due fiducia con due rami che possono entrambi contribuire alla fiducia a un governo quindi la riforma riporta il passo dell'Europa su questo anche l'Italia invece non era io ascoltando Renzi ho l'impressione che lui ricostruisca la storia non dall'anno in cui comincia ma dall'anno in cui è arrivato lui lui è l'inizio cioè R di R e ignorando evidentemente tutte le cose pregresse io potrei rispondere in maniera mi rendo conto rispondo alla provocazione negli anni 90 sono stati gli ultimi anni in cui c'è stata la crescita c'è stata la crescita e il debito ma certamente c'è stata la crescita le motivazioni della crescita analisti con competenze tecniche hanno dato una spiegazione non di responsabilità ma di scelta ma dall'80 in poi sono passati 26 anni e sarebbe stato interessante fare la storia dei 26 anni successivi adesso richiamare il passato perché io sono l'interlocutore allora io allungherei la storia l'aprirei tutta e non so quando finiremmo io faccio un discorso molto sereno molto serio la mia riflessione cosa che ti sfugge è fatta non per non risolvere il problema paradossalmente la mia opinione sulla riforma è quella che è ma credo che chiunque la legga è difficile che ci sia una persona di diritto che legga quella riforma e la trova scritta bene e comprensibile io me lo sopportato l'articolo 75 è di difficile lettura mai in una norma costituzionale sono stati fatti i richiami degli articoli non è non esteticamente consentito quando dico brevi non significa che non possono essere più punti brevi ma è la lunghezza dell'articolo per cui la lettura diventa un po' difficile si faccia spiegare queste cose dai costituzionalisti quelli veri non quelli che fanno propaganda ma io questo lo dico il paradosso perciò ho detto sta attendo perché tu non conoscendo la conclusione del mio discorso ti potresti trovare in difficoltà anche alla fine del discorso io su queste cose rifletto non con prevenzione rifletto nel merito e perché questa legge è stata fatta così diciamocelo con molta franchezza perché la legge elettorale a parte l'anomalia il governo presenta la legge di riforma e il governo pone la fiducia sulle norme di riforma costituzionale non è successo presidente non è successo e io ho letto delle tante balle chiedo scusa dell'espressione che costantemente vengono ridette l'ho letto ho letto ma non è vero lo dico con il massimo rispetto non è mai accaduto che il governo che nella fase di riforma costituzionale del 2014 al 2016 il governo non ha mai messo la fiducia sulla riforma costituzionale purtroppo l'ho letto è una cosa diversa sulla legge elettorale c'è un precedente che De Mita ricorda perché è il precedente del governo De Gasperi allora però capito se persino il presidente De Mita la cui oggettiva preparazione competenza è fuori discussione al netto della diversità d'opinione dice che c'è questo è la dimostrazione che siamo veramente immersi in un mare di bugie su questa riforma costituzionale che mi lascia perplesso adesso non l'allarghiamo no però ho capito onestamente l'ho letto posso indicare anche il libro e la pagina dove l'ho letto presidente ma io sono d'accordo poi finisco subito chiedo su un'interruzione ma questo è drammatico l'ho riletto c'è un sacco di bugie perché però rimane rimane l'anomalia della discussione la riforma costituzionale coinvolge il Parlamento non si può partire con la maggioranza c'è una norma di Moro molto bella che andrebbe letta e memorizzata la riforma costituzionale è la casa di tutti e tutti debbono abitarci liberamente ora partire con discriminazioni mi potresti dire non erano d'accordo però che la riforma sia partita con un dibattito largo con proposte condivise con consensi e dissenzi come è stato il processo costituente dove la discussione era larga poi la votazione si riduceva perché la cosa che si definiva era l'obiettivo poi come rarrivarci era opinabile questa era la tecnica dell'elaborazione costituzionale e questa volta invece no questa volta prima si trova la maggioranza e poi si scrive la norma che a me non mi sembra una regola a meno che la modernità del costituzionalismo io purtroppo appartengo al passato abbia prodotto questa innovazione che mi sfugge Presidente non fammi finire se no tu parli io io mica sono del PD vale per tutte e due mica sono del PD dove parla solo lui ho qualche dubbio che ci sia questo rapporto ascoltato o parlato ma per rispetto mi taccio tempo lo controllo io state tranquilli però finisca le mie osservazioni sulla riforma sono sul modo con cui è stata scritta e sulla possibilità di applicarla utilmente poi sul fatto che le riforme si debbono fare io mi sono mosso da tempo e da tempo mi muovo per farle non è una posizione di ostruzionismo è una posizione di rilievo cioè la riforma si può fare ma questa è sbagliata la possiamo dire così è la posizione di Demi potrebbe essere fatta meglio potrebbe essere fatta meglio ma non credo che detto questo sia una cosa il modo come immagini la riforma è un insieme di desideri rispetto ad un mondo che non c'è mentre le norme giuridiche vere sono il recupero della memoria e delle abitudini e la norma che sollecita comportamenti virtuosi è una cosa un po' complessa per uno che ha la velocità dell'eloquio e del pensiero come il tuo io non so se la velocità è una contraddizione con la profondità e comunque non credo che interessi a nessuno a casa andrei sui punti che il presidente esprime per vedere se sono veri o no o perlomeno se sono veri per quale motivo io non li condivida nel caso in cui non li ritenga veri primo tu punto il modo con il quale è stata scritta è da un quarto d'ora che ne stiamo discutendo bene io vorrei che fosse messo agli atti che non soltanto il testo dell'articolo 70 o dell'articolo 75 è più breve degli omologhi degli altri paesi che hanno un bicameralismo differenziato non soltanto è più corto come parole e come scrittura ma le leggi degli altri paesi costituzionali entrano nel dettaglio in misura decisamente superiore a quella nostra l'articolo 106,5 della legge fondamentale tedesca ed è la costituzione di Adenauer cioè non stiamo parlando della costituzione di un eloquio veloce modernista di Conrad Adenauer che mi pare un sincero democratico l'articolo 106,5 parla dell'imposta sulla birra e il 138 disciplina regole del notariato nella Germania meridionale cioè le riforme le leggi costituzionali caro presidente De Mita non sono quello che ci state raccontando cioè un sistema perfetto ma sono un sistema vivo ci sono i primi articoli valoriali che tutti noi non mettiamo neanche in discussione e ci sono poi degli articoli di merito che possono essere cambiati non cambiarli significa condannare il paese all'immobilismo secondo punto vado rapidissimo non riapro la questione sugli anni 80 trovo però un po' non dico offensivo ma un po' superficiale dire che io divido gli anni in prima e dopo il 2014 io mi inchino di fronte alla storia di chi per 50 anni ci ha dato la crescita ragionevolmente dal 46 al 92 perché poi il 92 è l'anno in cui si interrompe la crescita in Italia o perlomeno si interrompe a una velocità seria ma mentre dal 46 all'80 a 81 questa crescita è stata fatta con una pressione fiscale bassa e con un sistema di debito che non superava il 50% stava tra il 40 non superava il 60 via perché in alcuni casi andava il 55 il 57 dal 81 al 92 il 94 si è raddoppiato il debito pubblico sul PIL quindi sulla crescita su questo come dire basta andare a un fact checking e guardare i numeri perché sarei veramente felice di farlo ma comunque metto agli atti che noi ci troviamo in difficoltà non perché siamo nati sotto un cavolo ma perché abbiamo un carico di interessi con il debito pubblico più alto d'Europa dopo la Grecia che non è fatto da noi è fatto da chi ci ha preceduto i nostri padri ci hanno dato un sacco cioè mio padre mio nonno mio bisnonno ci hanno lasciato un sacco di cose ma i nostri padri politici degli anni 80 ci hanno dato il debito pubblico questo vorrei che fosse messo agli atti perché è così e non c'è discussione possibile trattandosi di numeri vengo invece alla parte più politica che è forse anche la più interessante di quelle che pone il presidente De Mita due questioni la prima il governo è titolato o no ad aprire la fase di riforma costituzionale presidente De Mita mi sembra di capire se capisco bene neghi questa possibilità non che non sia titolato però una riforma costituzionale che coinvolge tutti mentre il governo ha una sua maggioranza la riforma costituzionale è fatta dal Parlamento nella sua totalità cito due elementi il primo noi abbiamo cercato di fare la riforma con tutti tant'è vero che questa riforma l'ha votata anche Forza Italia nelle prime letture quando ha cambiato l'idea Forza Italia perché non gli andava più bene la riforma no non ha mai posto un tema di merito Forza Italia per dire no alla riforma Forza Italia ha cambiato posizione quando sul suggerimento del segretario del partito democratico il Parlamento ha scelto di eleggere un galantuomo quale Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica lì si consuma la rottura non sull'articolo 70 sull'estetica sul Senato perché si era d'accordo basta riguardare gli atti parlamentari quindi il nostro tentativo di coinvolgere anche la principale forma dello partito dell'opposizione lo facciamo ma aggiungo direttore Mentana contesto storicamente la lettura che dà De Mita perché intanto di riforme costituzionali approvate partite dal governo ce ne sono diverse nel corso di questi anni ci sono state 15 riforme costituzionali l'ultima votata da De Mita è quella presentata dal presidente del consiglio Massimo D'Alema negli anni 97-98 o meglio più correttamente 98-99 ed è la cosiddetta riforma del titolo quinto quella sì che ha combinato il pasticcio di competenze tra Stato e Regioni ma se posso permettermi l'ultima chiosa sulla storia l'assemblea costituente con un ordine del giorno di Terracini che ne era il presidente in seconda sottocommissione esplicita chiaramente la possibilità per il governo di intraprendere l'iniziativa costituzionale con un ordine del giorno in cui la democrazia cristiana e il partito comunista sono d'accordo nel dare questo messaggio tant'è che viene approvato a larga maggioranza allora noi possiamo stare le giornate qui a discutere ma il punto vero è che riscrivere la storia non serve a nessuno io credo che oggi ci sia bisogno di dire se in 35 anni non ce l'avete fatta ma il merito della riforma è lo stesso che ponevate voi perché si supera il bicameralismo e chi te si mi ha detto che tu ce la farai visto che noi non ce l'avremmo fatta e tu già pensi di avercela fatta no no io non penso di avercela fatta fin da sono Presidente Finisco molta cautela no no molta cautela Presidente attenzione io mi inchino di fronte ai cittadini il voto dei cittadini è sacro lo prevede l'articolo 138 della Costituzione e lo prevede una qualsiasi logica di buonsenso politico però la differenza è che voi questa discussione che la classe dirigente politica degli anni 83-85 91-92 97-98 non ha detto che schifezza cambiare il bicameralismo paritario ha detto bisogna cambiarlo e non l'ha fatto perché Presidente posso dirle finisco davvero oh ma se l'aveste fatta voi io sarei l'uomo più felice del mondo non avrei tra i piedi un referendum che ci sta ovviamente creando molte anche difficoltà perché è giusto riconoscerlo figuriamoci se io penso che sia già vinto però quello che non sopporto è che questo paese si fermi perché se questo paese per l'ennesima volta ritorna da capo è un'occasione persa per l'Italia e io credo anche per l'Europa però scusi faccio io una domanda lei ha ricordato i motivi che sarei anche conduttore tempo perso e lei ha ricordato i motivi per cui si è creata una maggioranza non è vero che era soltanto di iniziativa del governo e della sua maggioranza e questa riforma costituzionale era stato cercato l'accordo con Forza Italia con cui in parte addirittura forse è stato scritto l'elaborato di questa riforma costituzionale no no lei pure il Forza senza il Forza ma lo sanno tutti sì sì e se posso permettere ma Demita lo ricorderà sicuramente io iniziai il mio primo intervento da segretario del PD all'Assemblea Nazionale chiedendo a Beppe Grillo di partecipare a questi e di scriverla insieme si era un po' allargato un po' troppo però ho capito il partito ha preso i 20 nella logica demitiana di coinvolgere tutti noi ci abbiamo provato perché allora un'altra cosa perché un altro aspetto fondamentale cioè la scelta del capo dello Stato per il quale si richiede comunque nello spirito della Costituzione una maggioranza qualificata ha preferito correre il rischio che poi si è verificato della rottura con Forza Italia per eleggere Mattarella che è un galantuomo ma che non è l'unico galantuomo d'Italia beh parliamoci chiaramente ci sono stati due esempi nella storia italiana di capolavori politici io non ho difficoltà a riconoscerlo sul Presidente della Repubblica uno è l'85 lo fa De Mita su Cossiga De Mita coinvolgendo Natta credo Craxi non so chi erano gli interlocutori ma sostanzialmente il Kingmaker fu fu De Mita e quello del 99 il Kingmaker Veltroni su Carlo Azzeglio Ciampi questi sono i due capolavori perché si porta al primo turno tutti a votare lo stesso candidato nel nostro caso qual era la situazione nel 2013 Napolitano era stato costretto a accettare la rielezione dalla incapacità della classe politica di individuare un'alternativa e lì secondo me si misurò il clamoroso errore di Pierluigi Bersani segretario del partito di maggioranza che portò una terna a Berlusconi e fece scegliere a Berlusconi a mio giudizio questo atto di dare una terna e far scegliere all'altro è un errore politico io ho detto una cosa diversa a Berlusconi io ho detto hai dei nomi li mettiamo insieme li valutiamo li scegliamo per una serie di motivi che posso stare a riflettere qui ma che trovo tempo perso e anche di scarso buon gusto nei confronti del Presidente della Repubblica si è fatto una valutazione e si è scelto che fra tutti i nomi il nome che più ci sembrava in grado di ottenere un ampio consenso e di garantire quell'alto ufficio che è il Presidente della Repubblica fosse Sergio Mattarella ma mi spiegate perché se la riforma costituzionale è così importante basta che uno non venga coinvolto o che non accetti una scelta per dire sai che c'è allora grido alla deriva autoritaria e alla deriva antidemocratica perché tutto quello è cambiato il film è cambiato il film per lui quello che dice De Mita è interessantissimo quando dice è presente quando dice che il governo ha messo la fiducia sulla riforma costituzionale non è mica che l'ha inventato l'ha letto perché si sono create una serie di leggende metropolitane su questa riforma quando io domando mi dite dov'è l'articolo della Costituzione in cui cambiano i poteri del Premier adesso però non mi risponde nessuno Presidente perché perché non c'è perché non cambia i poteri del Premier adesso ha sentito tutto può replicare con dovizia di tempo e di argomenti nella ricostruzione fatta da Renzi c'è un po' di diritto un po' di furbizia un po' di storia un po' di convenienza cioè un po' come un discorso all'Assemblea del PD io non ho utilizzato un espediente per eleggere Cossiga io ho affermato un principio in virtù del quale il Capo dello Stato rappresenta la nazione il Presidente del Consiglio la maggioranza in conseguenza di questo principio ho come dire discusso con tutta la rappresentanza politica alla ricerca di una indicazione poi Renzi mi dirà che con la parola e la pazienza si riesce come dire nella pluralità dei nomi a trovare un nome condiviso però questo è possibile perché la partenza è la condivisione non la struttura quando tu eleggi il Presidente della Repubblica al quarto turno è come se avessi eletto me a scanso di equivoci Mattarella dal punto di vista formale le votazioni si fanno dal primo turno non si possono fare dal quarto turno ma lo dico per scambiare opinioni non ci sono obiezioni torno adesso torno io all'attualità discutere del presente caricando il passato di responsabilità il futuro signora il presente ingigandito dalla Presidenza del Consiglio che la occupi di fatto è un fatto fisico tu sei in ogni posto in ogni luogo prima la luce adesso in ogni insomma c'è questa svolta evangelica di De Mida che non mi aspettavo no no in ogni posto in ogni luogo ma io mi domando mi domando come il Presidente del Consiglio che il riferimento della sintesi riesca a fare tante cose e quando riesca a fare la sintesi veniamo alla riforma la mia osservazione puoi dire la mia opinione è volta più alla preoccupazione di vedere l'applicazione di queste norme se il meglio della cultura giuridica del paese possiamo dirlo questo in questa vigilia elettorale c'è la spaccatura del costituzionalismo in Italia beh però c'è una quantità diciamo che sono professori tra i 500 e c'è un'altra che continuano a fare i professori universitari come erano prima io sarei stato attento alle opinioni di chi per saggezza ha dimostrato di più la indifferenza alle considerazioni di questi non mi pare che sia stata una procedura di grande come dire condivisione attento però non contrapporre quello che fai a quello che non è stato fatto perché la logica o la saggezza di chi ci ha preceduto dice che intanto uno riesce a far se gli altri hanno tendato cioè si riesce quando i tondativi sono infiniti l'altra considerazione gli ordinamenti costituzionali non sono omogenei gli ordinamenti costituzionali sono come i vestiti su misura riguardano le storie le abitudini le tradizioni la differenza tra le istituzioni locali in Germania e quelle locali in Italia è la differenza tra una cosa che esiste e una cosa che in Italia si sta disperdendo perché l'autonomia dei comuni è saltata per mancanza di risorse le riforme fatte dal tuo governo che ha avuto l'idea felice di sopprimere le province perché costavano sono rimaste come erano perché la riduzione è stata di 50 milioni ma risulta come dire detta male perché 50 milioni si risparmiano ma i 50 milioni sono il costo del personale che è stato trasferito agli altri enti locali questa riforma fatta come è fatta a me non convince perché la seconda camera la seconda camera è utile può avere compiti diversi ma la seconda camera è utile e la seconda camera normalmente laddove non dà la fiducia è fatta o di rappresentanti del territorio o di rappresentanti degli interessi diffusi non mi pare che scegliere i consiglieri regionali nella graduatoria della classe dirigente amministrativa che c'è non mi pare ma lei ce l'ha con le regioni non le regioni adesso per i consiglieri sta parlando del senato tra l'altro nella riduzione della spesa la sopravvivenza delle regioni adesso che sono la istituzione più costosa e dalle capacità giuridiche abbastanza indefinite è una cosa che si voleva fare la riforma andava pensata noi non possiamo avere ma c'è come ma c'è questo nella riforma e che c'è la riforma di titolo quinto questa riforma non è che tu l'abbia letta fino in fondo come non credo che tu abbia letto fino in fondo questa riforma certo che l'ho letta allora evidentemente abbiamo un problema la regione rimane certo che la regione rimane però quello che diceva è il costo delle regioni e fammi finire non mi interessa c'è un punto questo esplicito la sottrazione di alcune competenze che le avete riportate al governo ne no ma parlavo dei stipendi in questo caso no visto che avevi introdotto questo argomento un po' vile l'altra cosa antiestetica mettere tra i quattro punti della riforma la riduzione del costo della politica mi sattando come dire a parte che non capisco come potrebbe avvenire ma queste cose si fanno non si enunciano perché queste posizioni sono al confine tra il recupero della funzione delle istituzioni e la contestazione delle istituzioni c'è c'è nella riforma istituzionale e nella lettura che tu dai questo misto che non ancora ti è estraneo e io pensavo che in tre anni di attività di governo avessi maturato la convinzione che gli atti di governo si misurano per i risultati che hanno e non per i messaggi che Presidente se vogliamo parlare una cosa però una me la devi consentire direttore chiedo scusa poi tutto il resto parliamo dopo per chiarità sarà anche antiestetico ma è etico che si riducano i costi della politica no ma questo bisogna farlo non si può scrivere in una norma costituzionale Presidente lo ha fatto il Parlamento della Repubblica con sei letture 85 milioni di emendamenti e due anni e mezzo di discussione due anni e quattro giorni non due anni e mezzo il punto che io non riesco ho la sensazione che tu hai sostituito il vigore del pensiero alla quantificazione delle notizie il tema della quantificazione abbiamo votato 700 volte secondo la mia opinione un Parlamento che vota 700 volte perché chi lo dirige non è capace di dirigere Presidente io difendo io non ho esperienza parlamentare tu sei entrato in Parlamento nel 63 una vita il Presidente degli Stati Uniti si chiamava John Kennedy quando tu sei entrato a fare il Parlamento sei diventato Presidente del Consiglio il tuo G7 lo hai fatto con Reagan e con la Thatcher hai fatto quando non hai fatto il parlamentare l'Europarlamentare e ancora oggi devo chiamarti sindaco perché alla tua bella e vigorosa età sei sindaco perché per te la politica è questo e io ti rispetto per me mi immagino se avrò la grazia e la fortuna di essere alla tua età mi immagino di essere fuori dalla politica perché per me c'è qualcosa di più bello fuori dalla politica quindi abbiamo una visione direi concettuale antropologica diversa ma mi fermo su un punto quando la politica è mestiere deve essere breve quando la politica è pensiero può essere finché una persona viva l'idea che sia pensiero la politica tua che cambi partito quando ti levano un seggio nel 2008 perché Veltroni non ti dà quel posto questa è una volgarità che non mi aspettavo ma no Presidente questa è una volgarità che non mi aspettavo ma non è volgare scusami e soprattutto se detta da chi in politica le ha inventate tutte Presidente da chi in politica le ha inventate tutte tu non hai il diritto di parlare di moralità della politica ma io mi sono permesso di parlarti di moralità ti sto dicendo che se parli Presidente però bisogna si faccia un po' per uno a parlare no no scusa è un mestiere che vuoi gestire in maniera abbastanza autoritaria questa della cultura autoritaria un partito dove parli da solo e io che ascolto le tue relazioni in direzione andrebbero pubblicate per vedere la politica a che cosa si è ridotta a livello io rispetto la tua opinione siccome ho letto qualche tuo libro del passato non mi pare no la rispetto non mi pare rispettare non vuol dire essere d'accordo Presidente capisco che ti abbiano abituato così ma rispettare vuol dire pensare che quel partito che tu contesti e quattro volte che citi il PD era anche il tuo partito ne sei uscito perché hai discusso con Beltroni ma ti voglio dire quel partito non è il mio questo è una cosa falsa e vabbè e allora però questo è una cosa falsa io sull'ipotesi del PD sono stato sempre di parere opposto perché spiegavo che due culture non si sommano due culture sono dialettiche e il risultato è che tu mettendo due culture nel PD hai provocato il silenzio io non mi voglio provocare capisco benissimo è un partito dove nessuno può parlare e com'è e lui dice le cose no no ma siccome parlava non scegliere terreni scivolosi Presidente io mi sento molto saldo perché non ho cambiato partito io e sono il segretario di un partito nel quale ho fatto una battaglia e l'ho persa e sono stato all'opposizione ho fatto una battaglia e l'ho vinta e ne sono un segretario ma mai io cambierò il mio partito io non sarò mai uno di quelli che cambia partito men che mai nell'imminenza di passaggi elettorali però cambia amicizie no Presidente perché il segretario di Pistelli poi hai fatto il fronte contro Pistelli però siamo ai colpi massi a tutte e due no no capisco perché è meglio cambiare amicizia e non partito soprattutto se il partito è il tuo Presidente io capisco la tua rabbia per il riferimento non ho rabbia io ho pietà non ho rabbia Presidente vi prego a tutte e due io non ho rabbia perché quando un discorso accumula insinuazione di questo livello ma quale insinuazione Presidente le cose che hai fatto che io ho cambiato partito hai detto io sono nato e muoio democratico cristiano tu non so che cosa eri quando sei nato e difficilmente eri un bambino che non pensava alla politica pensa un po' capisco che ti possa suonare strano ma via fammi finire sul punto da cui sei partito io non entro nel merito del rapporto tra giovani e anziani ti ho citato prima Fiorentino Sul e sarebbe interessante approfondirlo ti dico una cosa diversa ti dico che quella che tu chiami norma antiestetica cioè la riduzione del costo della politica e del numero dei parlamentari non soltanto è una priorità non ho detto ad estetica la riduzione dei parlamentari ho detto scrivere come obiettivo la riduzione nel mio autoritarismo ti faccio parlare che siamo in una condizione di immoralità pubblica allora adesso parlo ancora per 30 secondi se posso finire Presidente Renzi poi andiamo in pubblicità e poi vi dico due parole durante la pubblicità c'è un punto fondamentale citare riferimenti di morale e di autoritarismo su questa riforma mi sembra un azzardo quello che è chiaro è che i cittadini votano su una domanda volete ridurre il numero dei parlamentari sì può sembrarti demagogico può darsi è il quesito per cui se il cittadino vota sì li riduce se vota no non li riduce vuoi ridurre Presidente bisogna che tu abbia la pazienza di far parlare anche l'altro dico se utili sono cose molto utili per chi ci ascolta da casa e mica l'assemblea del PD questa che tu non faccia parte l'assemblea del PD dal 2008 ce ne siamo accorti ma il punto chiave che voglio dire e chiudo su questo è che questa riforma è una riforma molto semplice non è una riforma che ha elementi di autoritarismo come ha detto De Mita non è una riforma sulla quale si è messo la fiducia come ha detto De Mita e non è una riforma antiestetica come ha detto De Mita al massimo una riforma etica e mi sembra un passo in avanti ci fermiamo adesso andiamo in box insieme tra poco De Mita De Mita è chiusa o no sull'argomento su cui abbiamo fatto un po' alzare i toni alla fine dell'ultimo blocco ci sono alte e basse beh a nome dei bassi però le devo dire che capita molto nella vita però allora andiamo alla sostanza scusi tanto per intenderci abbiamo detto del Senato che non anche con toni abbastanza perentori lei ha giudicato non adeguato nella nuova formulazione i poteri del Presidente del Consiglio l'elezione del Presidente della Repubblica la riforma del titolo quinto tutti questi elementi e magari un cenno alla riforma elettorale queste sono la sostanza quali sono le sue cosa c'è che secondo lei non va e cosa c'è che va tutti dicono il CNEL siamo tutti d'accordo lo diciamo anche noi se mai avesse un dubbio sulla proposta di riforma costituzionale il riferimento alla legge elettorale il combinato disposto come la vulgata diffonde mi toglierebbe qualunque dubbio perché quel sistema elettorale non mi si venga a dire che in altri paesi doppio turno perché in altri paesi la realtà può essere diversa in un sistema bipolare evidente che col secondo turno uno dei due vince ma sono l'alternanza di due forze tranquillamente democratiche quello che sfugge a Renzi è che la realtà politica del nostro paese a differenza della lettura che ancora rimane nel dibattito politico non ha una forma bipolare immaginare una forma bipolare significa immaginare l'irrealtà anche se la forma bipolare a qualche uno in qualche periodo è sembrata conveniente per utilizzare le voci del populismo insomma o come vabbè parla di Berlusconi dai no non c'entra Berlusconi no io sto parlando del populismo non della decadenza sono due cose diverse io ho del quadro politico della democrazia in Italia una visione preoccupata non è una partita persa ma è una partita difficile è una condizione che investe l'Europa non è che tocca solo noi paradossalmente però osi immaginare che noi potremmo essere nella condizione meno rischiosa se non siamo distratti nel tempo la legge elettorale così fatta rispetto a due partiti che combettono sarebbe una regola quasi razionale in un sistema pluralista dove non si capisce bene la maggioranza dov'è io la ritengo estremamente rischiosa dal punto di vista del governo degli eventi beh ma la considero anche rischiosa per chi combettendo ritiene di aver vinto perché pur con lo sbarramento del 40% al primo turno che paradossalmente sarebbe uno sparramento congruo se al secondo turno uno dei due piglia il 20-25% piglia la maggioranza del Parlamento perché per la legge elettorale come è fatta i capi collegio gli amici visto che i partiti non ci sono più degli amici si arriva perché dice che i partiti non ci sono più fammi finire beh ci sono di fatto il partito nella mia memoria era un'assemblea di persone di cervelli diversi di grande serietà nella discussione di convergenza sull'intelligenza che mediava le proposte mai di uno che proferiva il verbo e gli altri che dicevano sì io se dovessi sottoscrivere una previsione sarei molto come dire preoccupato della condizione della democrazia in Italia ma rispetto alla ragione a volte c'è la volontà che si può contrapporre e allora quella legge in Italia quella legge come le norme costituzionali in Italia perché le leggi hanno similitudini ma non sono uguali paese per paese quindi non si può fare il riferimento da un paese all'altro perché le leggi possono interagire in maniera diversa l'abbinata riforma costituzionale e riforma elettorale secondo me è un inruglio che metta a rischio la conservazione democratica del paese perché una maggioranza data dal risultato elettorale ma non dal consenso popolare io credo che sia una cosa rischiosa e nella riforma costituzionale perché io non pensavo che facessimo l'esame di tutto nella riforma costituzionale in realtà l'accentuazione del ruolo del governo rispetto al Parlamento che molti politologi moderni prefigurano come il futuro della democrazia nel nostro paese è il rischio più grosso che a mio avviso questa è una mia opinione e qua aggiungo probabilmente come dire corrispondendo ad un'attenzione diffusa data la mia età all'inizio del ringoglionimento è una visione possibile però ma dov'è presidente in quale articoli è della riforma costituzionale la modifica dei poteri del governo perché era nella vostra riforma ma qui non c'è no 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 adesso no perché questa storiella che avendo preso appunti sparsi sei venuto qua con la facciarella del Sandino a insinuare cose balorde no presidente sto domandando dov'è l'articolo della riforma costituzionale non c'è è come sulla fiducia innanzitutto ti pregherei di non interrompermi ma se interrompi fammi la domanda la domanda è dov'è è vero è vero che non c'è scritto la modifica dei poteri del presidente del consiglio ma le leggi la legge elettorale non elegge il presidente del consiglio elegge il capo che è un'investitura molto più rischiosa rischiosa e molto più pregnante perché se fosse un riferimento ad un'istituzione le istituzioni hanno garanzie e nella condizione che abbiamo questo meccanismo porta a questo risultato visto che le motivazioni che arricchivano i partiti le motivazioni culturali che erano la ricchezza dei partiti si sono attenuate io registro che la rappresentanza politica non mi paia carica di grandi tensioni ideali che un meccanismo elettorale così porti alle elezioni di uno con la maggioranza abbondante e con una lesione della democrazia è stato molto chiaro con un gruppo dei parlamentari come il gruppo nonno delle grandi coscienze libere che nei dibattiti dei gruppi parlamentari manifestano vivacità sorprendenti ma noi abbiamo il silenzio più o meno recitato io sono preoccupato la mia opinione questa è la mia opinione io non ho la pretesa di prevedere il futuro io il combinato disposto legge elettorale riforma mi porta ad un ro radicale convinto e non vorrei meravigliarle io penso che il non passaggio della modifica della riforma anziché preoccuparci probabilmente aprirà una luce anche se tenue sei minuti e mezzo abbiamo parlato di una cosa che non sta nella riforma costituzionale non ci sta siamo parlando della legge elettorale meno male ero io quello che interrompeva il riferimento dopo 22 secondi sono stato interrotto il riferimento su mia domanda di demigrare era sulla legge elettorale mettiamoci d'accordo se ogni tanto posso parlare anch'io lo faccio se no sto tranquillo aspettare a prendere appunti e poi faccio un post dopo di risposta ma le cose che hai detto presidente sono tecnicamente tutte fuori dalla riforma costituzionale anche quelle del blocco precedente perché quando parli dello stipendio dei consiglieri regionali ti sei dimenticato di leggere quel passaggio in cui lo stipendio dei consiglieri regionali viene abbassato proprio per venire incontro a quelle esigenze che tu dicevi dei consiglieri regionali ma ora noi parliamo dopo noi parliamo con calma lo dico quando poi avranno fatto gli stipendi ma sta scritto in costituzione oh santo sciello oh santo sciello se facciamo la costituzione si fa la costituzione se si fa le opinioni di De Mita si fa le opinioni di De Mita allora cioè vorrei svelare questo segnale di stipendi e le varie indennità non mi faccia non mi faccia interrompere io vorrei capire se adesso parla la riforma costituzionale Ciriaco De Mita che ha letto migliaia di libri l'ha letta o no ho l'impressione di no eccolo qua e arrivo nel merito questa riforma costituzionale sottolineata evidentemente hai preso un libro sbagliato perché come hai visto prima non c'è nemmeno la fiducia quindi lasciamo stare su cos'è questa riforma costituzionale sulla legge elettuale no tant'è vero che noi abbiamo dato la disponibilità a cambiare la legge elettorale io non condivido il giudizio che ha dato De Mita sulla legge elettorale e ritengo che il ballottaggio sia necessario esattamente laddove non c'è un sistema bipolare quelli che dicono siccome abbiamo un sistema tripolare non si fa il ballottaggio stanno dicendo da livello politologico una cosa che per me non sta né in cielo né in terra in quanto proprio la presenza di un sistema tripolare giustifica il ballottaggio che altrimenti non avrebbe ragione di essere un sistema bipolare ma non mi interessa aprire la discussione su quello vogliamo cambiare la legge elettorale si cambia ma che c'entra con la riforma costituzionale e sui poteri del governo l'articolo 95 della costituzione non cambia i poteri del presidente e del consiglio erano cambiati da tutte le riforme pensate da De Mita che oggi parla di deriva autoritaria di questa riforma quando è stato quello che ha scritto le norme per dare più poteri al premio sia in ordine normativo con la 400 dell'88 una legge non costituzionale sia con la legge di attuazione costituzionale sia con le riforme costituzionali che non sono passate allora su che si vota? perché bene che gli italiani lo sappiano si vota su una domanda che dice volete superare o no il bicameralismo paritario cioè volete evitare che Camera e Senato facciano le stesse cose che ci sia un ping pong assurdo tra Camera e Senato che da tre ore sto chiedendo qualcuno sa se c'è da qualche altra parte? no non c'è da nessun'altra parte in questo modo da nessun'altra parte Camera e Senato danno la fiducia agli stessi non esiste solo in Italia perché c'è un eccesso di burocrazia anche su questo quindi uno la riforma è su questo la riforma è sul numero dei parlamentari sì volete ridurli o vi vanno bene quanto sono? sui costi della politica sul CNEL e sui poteri delle regioni rimediando a un pasticcio questo sì che è stato un pasticcio che è quello del cosiddetto titolo quinto approvato col referendum nel 2001 la riforma è su ste robe qua se poi mi si dice ma i cittadini hanno meno potere e il governo ne ha di più individuo rapidissimamente perché mi rimane ancora almeno un paio di minuti ma faccio più veloce uno per la prima volta entra in Costituzione lo statuto dell'opposizione non cambia niente per la maggioranza per il governo ma l'opposizione ha le proprie regole due il referendum viene permesso il referendum propositivo tre si abbassa il quorum del referendum se si raggiungono 800 mila firme quindi si consente una partecipazione più ampia dei cittadini quattro si permette alle petizioni popolari di essere discusse in Parlamento cosa che non era prevista ma di cosa stiamo parlando presidente De Mita state raccontando una riforma che è un'altra cosa e qui vengo al punto politico dopo due ore di discussione possiamo sommessamente dire con il massimo rispetto per la storia che credo nel mio piccolo di conoscere anche se non a livello ovviamente di De Mita di conoscere nel piccolo anch'io la storia di questo paese è meravigliosa e straordinaria ha degli aspetti positivi e degli aspetti clamorosamente negativi io penso che si debba cambiare l'Italia e per cambiare l'Italia occorre cambiare il sistema istituzionale un tempo lo pensavi anche tu il punto è che se mi dite che questa riforma ha dei limiti mi indicate l'articolo cosa andava cambiato e perché non è stato fatto ma se mi dite che ci abbia messo la fiducia che il governo non lo poteva fare che la legge elettorale è un problema e che alla fine il punto fondamentale è che c'è qualcuno che ha un problema col partito democratico perché lasciatemelo dire l'ultima considerazione ma domani mattina tutta Italia si muovono verso Roma 20.000 30.000 persone che vengono in piazza dopo aver fatto iniziative assemblee qual è l'altro partito in Italia che fa i congressi che si riunisce che fa le manifestazioni di piazza qual è il partito che oggi è un argine a rischio antidemocratico in Italia se non il partito democratico i partiti monopersonali i partiti azienda i partiti cui amministratori locali firmano contratti privati con un S.P.A. caro presidente De Mita per me è una grande tristezza vedere molti di voi essere in prima fila contro la presunta deriva antidemocratica di questa riforma e non aver aperto bocca sul fatto che siamo a livello in cui un S.P.A. si disciplina gli accordi con il sindaco di una città importante prevedendo la penale da 150.000 euro se non la rispetta questa riforma vi può piacere o no ma è una riforma che semplifica il paese se voi non l'avete fatto non avete titolo per poterci impedire di dare all'Italia un futuro perché la storia è bellissima ma per me il futuro lo è di più e la filosofia del si stava meglio quando si stava peggio i grandi ideali ce li avevamo solo noi le coscienze più belle eravamo soltanto le nostre questo atteggiamento perdonami se te lo dico è un atteggiamento che ha a che fare più nel campo della nostalgia che nel campo del futuro diritto di replica ovvio davvero è un discorso patetico e sì perché è un discorso che riassume la storia e la identifica con la propria persona io sulla legge elettorale ho fatto osservazioni serie condivisibili io nonno ma osservazioni serie non mi si può dire che le osservazioni serie non coincidendo con la sua opinione non hanno legittimità io faccio una considerazione banale il sistema ma del resto pensavo che non ti dovesse sorprendere la mia curiosità visto che l'ex presidente della repubblica che ti ha seguito sul piano della riforma e poi si è ricordato che viceversa c'era il problema della legge elettorale e quando è stata posta dall'ex presidente della repubblica se io ho letto purtroppo leggo ma non posso fare i riscontri se sono vere o no tu hai detto bene sì quindi l'idea che la legge elettorale è in un certo senso l'imbedimento massimo al giudizio sulla riforma tu puoi non condividerlo ma non puoi contestarlo né usare questa tecnica raffinata da fiorentino dove insieme c'è il canto e il colpo basso io invece appartengo ad un'altra storia dove racconta la sua razionalità e difficilmente sfugge alla razionalità non lo so se è un merito ma normalmente aiuta è opinione pubblica diffusa io presidente del consiglio avrei manifestato grande attenzione alle dichiarazioni diffuse di persone non sospettabili quindi non di parte che hanno annunciato che erano pronte a votare la riforma ma la legge elettorale no che il dubbio era la presenza della riforma elettorale ora se questa opinione è diffusa un uomo di governo raccoglie come dire i malumori i suggerimenti non ha la pretesa di pronunciare il verbo i tuoi discorsi assertivi dove l'affermazione non è convutabile perché è una dichiarazione non dimostrata non mi convincono e ti devo dire è la mia grande delusione della discussione fatta stasera perché io sono venuto qua con l'intenzione di utilizzare l'esperienza di chi l'ha accumulata con un giovane che si misura col futuro dove le due cose possono coincidere ma possono anche non coincidere convergendo non ti sembri una cosa paradossale ma la dialettica del pensiero porta a questo affermare la risposta anche sgradevole laddove fosse un pingo pongo è una cosa che mi ha molto sorpreso immaginavo ma mi rendo conto che ho immaginato una cosa impossibile che tu potessi cogliere l'occasione di stasera per cogliere uno spiraglio dove il percorso possa rivendare più agevole invece mi debbo rendere conto e di questo non è che mi dispiaccia molto che a te piace lo scontro e lo scontro con l'abbaldanza qualche volta riesce qualche volta no io sono convinto che se tu perdi il referendum lo perdi per la connessione che ha con la legge elettorale se tu non hai questa consapevolezza che Dio ti aiuti io oltre che questo visto che le argomentazioni le raccogli in una maniera a me dispiace utilizzare i termini forti ma qualche volta li solleciti tu nella discussione anziché utilizzare il dialogo sei andata a prendere io negli anni 80 se il debito pubblico è cresciuto ma se tu vai agli anni 80 dove il debito pubblico fra l'altro è cresciuto o meno fammi finire dove io sono stato presidente del consiglio non lo capisco quando io poi richiamo i processi storici per spiegare il futuro lui dice che la storia non si conta perché conta gli uomini che pensano al presente non hanno futuro perché non avendo memoria non possono avere futuro caro presidente l'articolo 70 è molto più comprensibile del tuo ultimo ragionamento perché quando ti dico che sulla legge elettorale siamo pronti a cambiare e parti con una filippica che si viene introdotta da questa simpatica espressione sei patetico dimostri di non aver ascoltato o se vuoi di non essere stato io in grado di spiegarmi bene te lo ripeto la legge elettorale noi siamo pronti a cambiarla non condivido il tuo giudizio di merito no no ora mi fai parlare per capire no no per capire non importa perché vuol dire te capisci sempre tutto e sono quello io che non capisci quindi fammi finire per cui hai già capito prima ti ripeto quello che ho detto che quindi avrebbe risparmiato gli ultimi dieci minuti di trasmissione noi siamo pronti a cambiarla presidente siamo pronti a cambiarla non abbiamo le barricate sulla legge elettorale io non condivido il giudizio che viene dato della legge elettorale ma proprio per le considerazioni che hai fatto che in tanti avvertono questo come il problema abbiamo la disponibilità a cambiarla tant'è vero che ne stanno discutendo e ne discuteremo tutti insieme il punto è che ti ribadisco questa legge elettorale non è la legge elettorale su cui chi sta a casa vota chi sta a casa vota su una riforma costituzionale che ha determinati punti che tu puoi condividere o meno ma questa è la mia tesi che sono gli stessi punti che quando eravate voi a fare le commissioni dicevate che erano i punti da dover affrontare perché tutto ciò che abbiamo messo nella riforma costituzionale ha grandi basi ha grandi radici nel passato nei vostri testi noi abbiamo fatto un copia in colla delle cose che avevate detto nelle commissioni ma che non eravate riusciti a far passare perché 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 questo è il punto caro presidente puoi pensarla come vuoi noi dobbiamo fare un nuovo partito no ti hai già cambiato troppo perdonami fammi finire no perché io il partito non li cambio io non cambio il partito io non cambio poltrona io non cambio opinione io voglio dire non posso pensare che dalla mattina alla sera l'unico obiettivo di un politico sia mantenersi la poltrona per decenni te lo dico con la massima stima e rispetto sei hai fatto il parlamentare della repubblica dal 63 al 94 poi lo hai rifatto dal 96 al 2008 e quella tua considerazione sulla dc per l'ulivo non valeva per le esperienze di culture diverse non valeva quella tua considerazione che hai fatto poc'anzi sul fatto che tu non ti trovavi dentro grandi schieramenti ma non entro nel merito della polemica poi sei andato al Parlamento Europeo dal 2009 al 2014 e adesso sei sindaco io ti rispetto profondamente aggiungo ti ammiro perché una persona che ha questo desiderio profondo di continuare a fare politica con una veste da protagonista merita il mio rispetto io sono totalmente diverso da te io credo che la politica debba avere una missione e un termine e ti dico la politica non serve a cambiare i partiti o a cambiare le poltrone serve a cambiare l'Italia qua fuori c'è un mondo che viaggia a una velocità impersonante robotica intelligenza artificiale industria 4.0 e noi abbiamo un paese che va con una macchinetta scalcagnata quali sono le nostre istituzioni perché dalla mattina alla sera ci sono veti e controveti mi permettete ci permettiamo di avere un paese che possa rispondere ai nostri giovani e quando io ti dico del debito pubblico te lo dico perché questo debito pubblico lo stiamo pagando noi oggi il debito mentre il risparmio privato che la vostra generazione ci ha regalato che mio nonno mi ha regalato è un risparmio privato che mi consente di avere il secondo risparmio privato d'Europa dopo la Germania il debito pubblico che la vostra generazione politica che oggi ci dà lezioni su tutto che si permette di dire che uno è patetico e ridicolo il debito pubblico che voi ci avete lasciato lo paghiamo noi e lo pagheranno i nostri figli allora caro presidente un pochino più di rispetto verso non la storia verso il futuro che avete seriamente ipotecato e che noi stiamo cercando disperatamente di difendere dai veti di chi dice sempre no solo no e chi dice sempre sì ma bisognava fare in un altro modo il problema è un altro sai qual è la conclusione che a forza di dire quello il problema era il senato il problema è la legge elettorale talvolta mi viene il dubbio che il problema sia stato chi in questi anni ha parlato di riforme ma poi ne ha soltanto parlato per dar fiato alla bocca e non per arrivare alle conclusioni vuole aggiungere qualcosa presidente e credo che sia irrecuperabile perché ha una tale consapevolezza di sé che non vede limiti alla sua arroganza io credo che questo giudizio lo danno i dottori o lo danno i professori la differenza caro presidente De Mita è che il giudizio lo danno i cittadini può darsi che i cittadini dicano di no alla riforma a me basta che sappiano qual è la domanda e la domanda non è quella che hai detto tu la domanda è una domanda sta andando via no aspettate che ci salutiamo tra poco pure in città non ci mandi via siamo proprio alla fine io devo soltanto un saluto beffardo a chi diceva che sarebbe stato un match amichevole tra il CLC tra due DC ecco è stato tutt'altro poi potrà essere piaciuto non piaciuto ho avuto poco da fare se non dirigere il traffico e sedare i momenti più duri forse altri avrebbero fatto meglio nel senso che forse avrebbero tentato di aizzarli ma non è come sapete lo spirito di questa trasmissione mi pare De Mita posso dire si è rafforzato nel suo no? si non le chiedo se si è rafforzato nel suo sì sono soltanto dispiaciuto che De Mita non abbia letto la riforma costituzionale perché se l'avesse letta avrebbe probabilmente detto di nuovo lo stesso ma almeno non avrebbe non avrebbe parlato di altro stasera e per la stima che ho nei suoi confronti è stata una bellissima discussione di storia penso che l'Italia abbia bisogno di un po' più di futuro e un po' meno di storia questa è la mia opinione io di solito se c'è una materia come dire che mi appassiona è l'ordinamento costituzionale all'università nel secolo scorso tra le opinioni diffuse io sostenevo che la politica era la scienza di organizzazione dello Stato e l'obiezione che pensava di sprofondarmi è che io non avevo fatti conti col marxismo vedi l'età serve a distanza di un secolo io i conti col marxismo l'ho fatto ma il marxismo non l'ha fatti con me per quanto riguarda l'ordinamento costituzionale tu parli con una persona che si è dedicata a questa attività sapendo che la norma costituzionale non è l'atto amministrativo la norma costituzionale è una sollecitazione al comportamento è la motivazione delle cose che accadono per cui se sono scritte l'ho detto prima e lo ripeto Napoleone diceva brevi ed oscure non è per imbrogliare ma perché la norma prefigura la pluralità dei comportamenti che poi nei singoli comportamenti umani sono diversamente regolate fammi finire visto che chiudiamo senza insultarci fammi finire lo sta dicendo a mentana no perché per quelli da casa non lo sta dicendo a me ed ero venuto qua con la convinzione di discutere di questo non è che non l'abbia letta io l'ho letta e l'ho riletta la cosa che non mi va perché gli articoli veri della riforma sono questi dal 55 al 70 faccio fatica e non li leggo faccio fatica ad interpretarli lo dico ma non perché mi sia ringoglionito ma perché non ho trovato mai norme costituzionali scritte in questo modo che poi le altre costituzioni che sono fatte in maniera diversa come la costituzione americana è diversa da quella nostra la costituzione italiana aveva il pregio di fare la parte dei principi costituzionali per una parte il modo di attuarle dall'altra e io avrei conservato questo raccordo non a caso su questa parte io non ho detto no ho detto non è scritta in maniera comprensibile non mi pare che dire una cosa del genere è un'offesa a sua maestà le discussioni in diritto presuppongono il dialogo viceversa non ti sei reso conto può darsi che l'ora tarda le tatua ti stanchi presto e beh è così sei arrivato qua stango e sei uscito con battute sulle quali sei tornato spesso che era dal limite dell'offesa io un po' ricambiato dall'arbitro dice un po' ricambiato quando ho offeso il presidente della mia età presidente quando ti ho offeso non dico miseria e rosuperturma ma la comprensione per i giovani presidente se ti ho offeso ti chiedo scusa mi piacerebbe sapere dove ti ho offeso tu hai detto una cosa impressionante hai dato un giudizio sull'altro ed è assolutamente rispettabile io penso che vorrei arrivare alla tua età con la tua lucidità mentale ma non con il tuo atteggiamento politico perché io penso che aver cambiato per anni e anni costantemente nel tuo impegno politico storie partiti parlamenti palazzi istituzioni e non aver pensato che forse il compito di quelli della tua generazione non è quello di continuare a mettere dei veti come state facendo ma è quello di dare una mano a quelli che vengono dopo fate la vostra generazione una generazione che si divide non è vero che sono tutti per noi professori caro presidente De Mita perché tu ti puoi avvalere di tanti tuoi coetani che la pensano come te ma io penso a Giorgio Napolitano penso a Cassese per dire a un uomo della tua terra penso a centinaia di giovani professori che stanno lavorando per il sì perché non pensano che tu sia quello che può dare i voti e i giudizi alla fine e allora dal 63 al 2016 hai sempre occupato un ruolo istituzionale in politica quello che io credo che nella fine nella verifica delle cose fatte stia tra i più e i meno è sicuramente il pensiero e l'elaborazione ma il pensiero e l'elaborazione senza risultati presidente De Mita non aiuta l'Italia aiuta a te e ti compiace nella tua autoreferenzialità di quello che dà i giudizi e le pagelle agli altri poi però fuori c'è un paese da cambiare un paese nel cui nel sud scappano i giovani e finisco su questo stamani mattina ho vissuto uno dei momenti più belli di questi due anni e mezzo quando a Padova ho detto ben tornato a 14 professori che hanno vinto delle borse di studio per tornare in Italia dopo essere stati all'estero sai presidente De Mita se oltre a pensare ai vostri equilibri ai vostri giochi alle vostre alchimie interne aveste anche pensato a come non soltanto non derubarci del futuro col debito pubblico ma anche consentirci di avere un sistema istituzionale più semplice in passato se le vostre riforme fossero passate anziché essere sacrificate sull'altare del non facciamo niente forse questo paese oggi sarebbe migliore e forse il vostro ruolo sarebbe un ruolo molto più da saggi che non in prima linea come sempre a dover dire di no a tutti quelli che fanno le cose che a voi non sono riuscite ma io credo che hai una lettura della storia fatta solo su di te io credo di aver accompagnato ma questa la stavo facendo su di te presidente io credo di aver accompagnato la evoluzione più inimmaginabile della politica in Italia quando il centrismo era finito e il futuro andava costruito io ero tra quelli che ha visto insieme agli altri la soluzione e quando il centro-sinistra si era esaurito la riflessione su come doppiare quel passaggio credo che tra i protagonisti dell'epoca ci sia stata anch'io dopo di allora a differenza di quello che tu immagini tu non puoi immaginare che io se penso politica faccio politica perché la mia testa è fatta per queste cose io non sono uno specialista sono uno che svolge la propria attività secondo quello che si diceva una volta i talenti non mi pare questa lettura un po' insomma da fiorentino cattivo che io facendo il sindaco di Rusco faccio io pensavo che nella terra dove sono nato dedicandovi a mettere insieme 25 comuni di un'area di montagna dispersa in applicazione di una legge dove vede le comunità delle aree interne ho dato una mano ai sindaci a crescere e credo che aiutare gli altri a far qualcosa sia molto di più di aver la pretesa che si fa tutto per gli altri Presidente grande rispetto no basta no ho capito grande rispetto ma tutti quanti ma quelli come te hanno una grande responsabilità in questi anni in questo paese io spero soltanto che dopo averci bloccato il presente non ci blocchiate anche il futuro tutto lì buonanotte allora buonanotte stiamo andando lì a fai non lo bloccare no 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 ma andate se volete andare intanto Mentana va avanti fino alle due e mezza vado avanti assolutamente no vi ringrazio non so se vi vedrò ancora entro questa campagna referendaria e comunque grazie molte a Presidente Ciriaco De Vita perché si è visto che non so la poltrona ma sicuramente la forza la verve e la lucidità sono rimaste grazie a Matteo Renzi io glielo ho già detto però lo ripeto un confronto non da me magari ma con i 5 Stelle sarebbe molto opportuno le due forze principali del Parlamento attraverso le massime espressioni se sarà Grillo se sarà dato la disponibilità a incontrare Berlusconi a incontrare Beppe Grillo e a incontrare i Presidenti del Consiglio che mi hanno preceduto sono parecchi sì non tutti sono per il no però direi quelli per il no però quasi direi tu vai solo con quelli si chiama sì o no Presidente non si chiama forse obiettivamente però ci sono tanto per intenderci Dini Lamberto De Mita Dini Monti Berlusconi e D'Alema sono per il no beh non è incontriamo tutti quindi De Mita Dini Monti Berlusconi e D'Alema Enrico Letta che non lo incontra beh se me lo fate fare a me il dibattito con Enrico Letta no no però è interessante assolutamente però parliamo sì e sì però è interessante facciamo come stasera non parliamo della riforma e parliamo del resto non ne abbiamo parlato grazie grazie Matteo Renzi grazie a Ciriaco De Mita grazie a voi buonanotte grazie a Ciriaco grazie a Ciriaco grazie a Ciriaco